Come usare i social network? Quali errori, trappole ed insidie evitare? E questo è il tema dell'incontro svoltosi questa mattina all'Istituto di Istruzione Sacco di Sant'Arsenio. Socialmente, testa cuore e social network. Il titolo del convegno è rivolto a studenti, famiglie e al mondo della scuola, che quotidianamente ormai utilizza il web, uno spazio virtuale che offre grandi opportunità, ma che allo stesso tempo nasconde delle insidie che possono avere delle ripercussioni irreparabili tra i giovani e i meno giovani. Sempre più spesso capita di trovare ragazzini inesperti che utilizzano questi strumenti informatici e incappano appunto nei problemi che possono essere sia di trovarsi a essere vittime di reati, quali l'adescamento o addirittura autori di reato, perché molto spesso per gioco, per scherzo, si utilizza in maniera scorretta la rete senza sapere che appunto quella condotta ha delle ricadute di tipo penale. Ed è per questo che nel progetto proprio della Polizia Postale, una vita da social, vi è quello di incontrare i giovani per dialogare e per insegnare loro questo corretto utilizzo della rete. Soprattutto nell'età adolescenziale di già c'è una grande difficoltà per il ragazzo, per i ragazzi, rendere al meglio e esprire al meglio le proprie emozioni e la propria personalità. Una difficoltà del genere può portare delle conseguenze molto significative, dei disturbi che come abbiamo visto possono di conseguenza portare anche a gesti estremi, ad aspetti depressivi molto forti, ad eotelesionismo, ad ansia, a disturbi del comportamento alimentare. Insomma, sono varie le sfere che possono intaccare questi eventi. Quello che speriamo di fare è di fornire ai nostri ragazzi degli strumenti che gli consentano eventualmente di individuare insidie o comunque situazioni di pericolo, strumenti che li inducano soprattutto a riflettere, a riflettere anche proprio sull'utilizzo dei social. Vedo che i giovani li vedo sempre più soli, cioè li vedo sempre più coltivare, anche quando sono in gruppo, quando sono in compagnia, rapporti di tipo virtuale. Molte insidie, molti pericoli, ma anche bisogna trasmettere la consapevolezza che c'è facilmente la possibilità di venire a capo poi di chi fa un uso distorto di social network, i messaggi Facebook, eccetera, lasciano una traccia indelebile. E quindi gli organi preposti alle investigazioni, nello specie la polizia postale, hanno dei mezzi tecnologici che riescono con una quasi totale certezza poi ad identificare chi fa un uso distorto. Credo che i giovani debbano avere la consapevolezza che nulla è più facile della possibilità di chi usa male questi strumenti di essere poi individuato.